E là, bentornate, bentornati su Broken Stories. Nevica, fa freddo, mi son messo il berretto. Dunque, oggi vi voglio fare una segnalazione di una nuova uscita e ve la faccio subito dopo la sigla. In questo tempo da lupi è importante che io vi dica che è uscito questo libro. Il signore dei lupi. Di chi? Un autore minore, uno che ci prova, un dilettante, Alexandre Dumas. Eccolo qua. Alexandre Dumas, quello dei tre moschettieri, quello del conte di Monte Cristo, quello dei romanzi d'appendice. Allora, questo libro esce per le edizioni Alcatraz. E tra l'altro, attenzione, occhio, aprite le orecchie. Questa è la prima edizione integrale che sia mai uscita in Italia. Di che cosa? Di un romanzo di Dumas, padre, che è fantastico. Cioè, è di genere fantastico. È anche gotico, diciamo, goticheggiante. Di che cosa parla? Vi leggo leggermente, cioè brevemente, la sinossi nel risvolto, ok? Nella campagna francese dei dintorni di Ville Cotere, un demone dalle sembianze di un grande lupo nero semina il panico tra i boschi. Ma la stessa maledizione che lo rende potente e pressoché imprendibile prevede che una volta all'anno, per un solo giorno, la spoglia mortale che abita lo renda di fatto vulnerabile. Così, in quella fatidica giornata del 1780, quando il lupo si trova alle calcagne e guardia caccia del signore Ives, non gli resta altro che fuggire e ripararsi nella capanna di un povero zoccolaio di nome Tibold. L'artigiano accetta un patto con il demone. Ogni volta che augurerà del male a qualcuno, il suo desiderio verrà esaudito in cambio di uno e più capelli della propria testa che diverranno così rossi come le fiamme infernali. È un po' una specie di death note, avete presente? Desideri che qualcuno muoia e quello muore. Come nel manga e nel cartone giapponese. Però questa roba qui viene da una mente delle più fertili della letteratura di tutti i tempi. Ed è molto interessante che esca per la prima volta in questa edizione, appunto un'edizione integrale di questo romanzo che è principalmente fantastico e gotico. Mi piace molto questa storia. Il prezzo, come al solito, è molto contenuto perché è pieno 16 euro. Vi metto qui sotto il link, se vi interessa. Può essere un bello oggettino da... E poi soprattutto può essere un bello integrare la collezione. Guardatela qui dietro, ecco. Tutti, o quasi tutti, i libri usciti per questa collana bizarre di Alcatraz Edizioni che continuano a farsi molto apprezzare. E guardando questo libro mi è venuto in mente che ho pensato. Questi grandi autori del romanzo d'appendice, detto anche Feuilleton. Ragazzi, questi hanno scritto dei romanzi fantastici, pensiamo ai tre moschettieri, ma insomma pensiamo alla fama di questi giganti della letteratura che anche in questo caso, come quando parliamo di Robert Howard, quando parliamo di Lovecraft, anche in questo caso, questi qui sono venuti alla luce grazie ai giornali. Allora, il Feuilleton, che cos'è? Il Feuilleton è questa parola che deriva da feuillet, da foglietto, da foglio. Erano dei romanzi che uscivano a puntate dai primi dell'Ottocento in Francia sui quotidiani. Di solito le puntate venivano pubblicate la domenica. La domenica, in questi, c'era il giornal de debat, forse è stato il primo a utilizzare questa formula. Prima articoli, diciamo, di critica letteraria, di critica teatrale, poi direttamente le storie a puntate. E le storie dovevano essere efficaci, perché il pubblico dei quotidiani, naturalmente, se si dedicava alla lettura di queste storie, doveva essere acchiappata fin dalla prima riga. E naturalmente portata al climax dell'episodio, con quel desiderio di continuare, che è tipico oggi di che cosa? Delle serie TV. Ma stavo pensando, ma non sarebbe fighissimo se anche oggi i quotidiani dedicassero la domenica o un giorno, quando vogliono loro? E sto parlando dei grandi quotidiani, ok? Se dedicassero una pagina a un autore contemporaneo e lo sfidassero a intrattenerci con delle storie che funzionano dal punto di vista dell'intreccio. Cioè non soltanto scritte bene, con dei contenuti, con delle suggestioni letterarie, con una ricerca stilistica. Quello che volete, che poi è un po' il nodo della letteratura italiana. Deve essere elegante, deve essere ricercata, deve essere una non storia. No, ecco, pensate se si sfidassero questi autori e anche i giornali a dedicare una pagina intera a delle storie che avessero la potenza di aumentare le vendite del giornale stesso. Ma ve lo immaginate? Cioè delle storie così incredibilmente efficaci come erano quelle di Alexandre Dumas, come erano quelle di Salgari. Anche Robert Louis Stevenson pubblicò a puntate sui giornali come erano, insomma, questi autori che avevano una missione nella vita. Pubblicare quella, quell'episodio, quella puntata della loro storia in modo che fosse trascinante, avvincente per tutti. E questa è una cosa che sicuramente in Italia manca. La capacità, cioè, immaginate la sfida. Ora, prendiamo gli autori italiani, quelli famosi, e gli diciamo, ok, adesso tu agganci il lettore da una settimana all'altra e fai in modo che non ti molli più. Altrimenti non ti pubblico e quindi non ti pago. Cioè, io credo che darebbe una bella motivazione e anche una spinta creativa ai nostri autori che si troverebbero così nell'obbligo di che cosa? Di creare dei romanzi d'appendice, dei feuilleton. Che cos'è il feuilleton? È un tipo di storia con personaggi fortemente caratterizzati, con tanti colpi di scena, con una trama rocambolesca. Beh, rocambol viene un po' da lì, no? Rocambol è forse il personaggio chiave, l'eponimo anche, di tutto un modo di fare narrativa. E poi molto spesso nei feuilleton c'è anche un epilogo, diciamo, consolatorio, comunque un happy ending, mettiamola così, un finale eroe. E insomma, un tipo di storia che supera anche la critica, la necessità di una critica che incensa. Non ce n'è bisogno, perché se la storia funziona, funziona per tutti sul giornale. Sarebbe fantastico. Allora, Dumas è stato uno di quelli che questa cosa qui la sapeva fare. La sapeva fare in maniera magistrale, in maniera insindacabile. Non si può dire niente. Per questo, anche se io amo, come dire, non sono proprio un grande lettore di letterature dell'Ottocento, penso che questo qui lo apprezzerò. Non è questa una recensione. Questa è semplicemente una segnalazione per dirvi, ragazzi, prima volta che esce in edizione integrale un romanzo fantastico di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. E cosa vogliamo fare? Sicuramente siamo curiosi, vogliamo capire di che si tratta e aggiungerlo, diciamo, alla nostra libreria, biblioteca, ma anche al nostro archivio mentale di storie raccontate bene. Questo volevo dirvi. Se soltanto i giornali si aprissero a questa opzione. Io ogni domenica ti regalo un racconto. Ma poi immaginate... No, non un racconto. Ti regalo una puntata. Immaginate se queste storie fossero così incredibilmente potenti. Ma cosa nascerebbe poi? Nascerebbe forse il bisogno di, uno, continuare a leggere, l'abitudine di trovare all'interno delle notizie, di questo spesso raccolta di fatti terribili, anche però qualcosa di nobile, di alto. E le persone si abituerebbero anche a pensare che leggere una storia, anche solo di una pagina, o una puntata di una storia, è normale. È qualcosa a cui bisognerebbe fare l'abitudine, fa parte della vita. Non soltanto notizie atroci e che cos'altro. Tutta questa perdita di carta e di inchiostro per raccontare, che cosa? Le quisquilie della politica, dei salotti, delle... Insomma, dell'inconsistente che non cambia nulla, no? Bene, la notizia di politica ci vuole. Ma poi, spesso le pagine vengono soltanto impiegate, o meglio, l'inchiostro viene impiegato solo per riempire le pagine, anche se non c'è niente da dire. Invece no, tu individui uno scrittore e gli dici Oh, adesso spacca! Ti pubblichiamo noi, ti paghiamo, spacca, abitua la gente a leggere delle storie avvincenti, creami un romanzo d'appendice. Fammi sognare. Feilleton, come lo chiameremmo in Italia? Il paginon? Non lo so. Però sarebbe fighissimo. Il Signore dei Lupi. Edizioni, agenzia Alcatraz, nella colonna Bizarre. Copertina, come al solito. Vabbè, che bello sto... Fa freddo. Mi sono messo il cappello. Il freddo rallenta un po' anche, come dire, l'intraprendenza. Sto facendo un po' meno video, forse. È un periodo un po' così. Si pensa. Si sta al calduccio. Si accende la stufa. Questa mattina qui c'erano a 15 gradi. Ho acceso la stufa. Anzi, prima sono uscito a prendere la legna. Ho acceso il fuoco. E adesso mi sto godendo quel po' di tepore. E mi son detto, facciamo un video sul Signore dei Lupi. Perché il tempo è da lupi. Ciao ragazzi. Alla prossima.